E' stata riaperta al pubblico oggi la riserva naturale dello Zingaro. A dare l'annuncio nei giorni scorsi l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici. Dopo gli incendi che nei giorni scorsi hanno gravemente danneggiato la riserva, sono state concluse infatti le verifiche sulla stima dei danni. Verrà consentito l'accesso alla riserva lungo il percorso costiero, mentre resterà interdetta al pubblico l'area a monte interessata dagli incendi. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, intanto è stato ascoltato dalla Commissione Ambiente del Senato sugli incendi che hanno colpito l'isola. La mia è una chiara denuncia, ha detto Crocetta. Abbiamo avuto uno Stato che non ha rispettato la convenzione che avevamo circa la fornitura dei mezzi aerei, lasciandoci improvvisamente disarmati rispetto agli incendi, quando non era più possibile ricorrere a mezzi alternativi senza violare le norme sugli appalti. Il governatore ha spiegato che dal 2015 l'isola, che non dispone di una propria flotta aerea né si rivolge ai privati, si è affidata a un'intesa con corpo forestale e vigili del fuoco. Crocetta ha puntato il dito soprattutto contro la protezione civile e il suo capo Fabrizio Curcio. Nel febbraio del 2017, ha detto il presidente, abbiamo chiesto la conferma della convenzione con i vigili del fuoco, ma alla fine di maggio c'è stato comunicato che non poteva essere rinnovata perché lo Stato non aveva i mezzi. Una notizia drammatica, oggetto di una forte denuncia perché lo Stato deve avere i mezzi. Abbiamo scoperto che i mezzi erano passati ad altri servizi e per informazione avuta da Curcio, dei 10 elicotteri a disposizione della regione, solo 4 potevano essere reperiti perché 6 erano in manutenzione. Una manutenzione tardiva, dice il presidente. Alla fine di maggio c'è stato comunicato che questi mezzi non c'erano più, che non avevamo modo di trovarli e che dovevano metterli a disposizione di tutte le regioni. Come regione, ha aggiunto Crocetta, vogliamo concorrere ai costi, ma lo Stato deve avere un'adeguata flotta di mezzi. Abbiamo assistito alla contemporaneità di centinaia di incendi diffusi e a fronte di questo dato abbiamo toccato con mano una insufficienza totale del sistema, degli strumenti, non degli uomini che ci sono, ma della tecnologia necessaria per spegnere i roghi. Tra i territori più colpiti c'è quello del Ragusano. Un vasto rogo, nei giorni scorsi, ha devastato la pineta, seminando paure e danni. Diverse aziende sono in ginocchio, hanno perso capi di bestiame, bruciati vivi nei roghi, sale di mungitura e fieno andati in fumo in poche ore. Senza contare il danno al patrimonio di biodiversità, con aree boschive di più di cento anni andate distrutte. Una devastazione a cui si aggiunge un'altra emergenza. La mancanza di pioggia, infatti, sta mettendo a rischio il comparto agricolo.